Allora, sono tanti gli amici che ci stanno passando a trovare qui alla Villa Noseda, la nostra base per i giorni del Festival di Sanremo e in questo caso vi voglio presentare Elena Vera Stella, stilista, art director, insomma tutto quello che è legato al mondo della moda e che a Sanremo ci porta un po' della sua esperienza. Elena, tu hai vestito un sacco di personaggi noti del mondo dello spettacolo, da anni sei in questo settore della moda e poi come conseguenza dello spettacolo. Volevo chiederti ma quando ti arriva un personaggio come essere un attore, un cantante, come parte la ricerca dello stile che poi andremo a presentare a una sera? Che parametro usi con l'artista? È un dialogo? È un processo dove lui si confronta con te? Come nasce tutto? Grazie di questa domanda perché finalmente si riesce in un qualche modo ad esprimere come la moda possa non solo essere futilità ma un concetto un po' più serio. Infatti quello che io tendo a fare ogni volta è dar maggiormente risalto attraverso l'abito che altro non è, che è una seconda pelle, a quello che è il carattere, la personalità, tanto più di un personaggio che molto spesso riveste un ruolo importante comunque di comunicazione. Quindi l'abito è un mezzo attraverso il quale comunicare. Poi chiaramente a seconda delle situazioni si cerca di comunicare un concetto completamente diverso. Poi naturalmente immagino ci sia anche tanta passione prima di tutto perché muoverti secondo me in questi lavori, in queste professioni creative ci vuole soprattutto un motore interno, una grande passione. Sicuramente la passione è alla base di tutto ma penso un po' per qualsiasi lavoro, tanto più se il lavoro in questione è un lavoro di creatività. Per cui io penso di essere una privilegiata perché riesco a fare il lavoro che mi piace, quello che una volta era la mia passione e è diventata una professione, sicuramente a fronte di grandi sacrifici, una lunghissima gavetta, però sono molto contenta perché oggi riesco a farla anche ad un certo livello e quindi le gratificazioni arrivano. Elena, un artista che hai vestito di un ricordo particolare? Un bel ricordo però, quelli brutti lasciamo da parte. Un ricordo particolare, devo dire che ne ho vestiti parecchi, un ricordo particolare di Maria Teresa Ruta perché l'ho vestita più volte e lei è un po' un evergreen, nel senso che è sempre sulla cresta dell'onda e poi questa donna è un concentrato di energia, quindi vestire una donna che non è più giovanissima ma che comunque è ancora attuale, io l'ho vestita negli anni, diciamo anche in passato, però è sempre entusiasmante perché lei ha quella carica vitale che aiuta e dà soddisfazione. E questo è bello, perché poi quando riesci a sviluppare fuori, è tutto un circolo virtuoso. Esprime l'entusiasmo che poi serve anche ad avere un feedback. Assolutamente. Assolutamente. Senti, ti chiedo allora a questo punto se c'è una personaggio, non per forza il mondo dello spettacolo, che proprio ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe lavorare un giorno. Ma in realtà non c'è un personaggio nello specifico. Io vorrei vestire le personalità più disparate, perché poi la vera bravura sta nel vestire, sì sicuramente il personaggio, ma far venire fuori il vero personaggio. Per cui potrebbe essere una sfida anche vestire un uomo, per esempio, perché comunque si hanno meno mezzi a disposizione. E anche meno collaborazione. No, invece no, perché io che nel mio atelier ho vestito anche gli uomini, in realtà sono molto più fiduciosi, cioè si affidano con molta più tranquillità, sono convinti di capirne di meno e quindi sono più semplici. Esatto, l'importante è ammetterlo subito in questi casi. Va bene, Elena, ti faccio un'ultima domanda. Ho letto, insomma, un po' di cose su di temi prima e mi ha colpito molto un dettaglio. Dice, tu nel vestire le persone parti dalla concretezza, dalla ricerca di una donna comune, di una persona che vive la vita di tutti i giorni con le sue fatiche. Questa è una bella cosa, mi ha colpito molto. Infatti penso che oggi la vera sfida sia vestire le donne comuni, che hanno i difetti, che escono di casa la mattina e tornano la sera, che hanno i figli, i mariti, nel senso che vivono una vita reale. Lì è la sfida, cioè riuscire a vestire bene una donna di questo tipo che è anche in carriera, quindi lavora. È più gratificante. È gratificante, sei bravo se ci riesci. Va bene, allora io ringrazio Elena Verastella per essere stata con noi qui a Villanoseda a Sanremo. Grazie. Grazie a voi, grazie.